Il malato è antico, è grave e ha bisogno di cure immediate, perché si rischiano effetti catastrofici sull'ecosistema marino e quindi sull'economia dell'intera zona. Il malato in questione è il mare del Golfo di Napoli, che soffre per la mancanza dei depuratori. Non solo sulla nostra isola, infatti, gli impianti di depurazione sembrano un miraggio. Si discute tanto della loro realizzazione, a volte si procede anche con la messa a bando dell'opera, si realizzano i progetti e poi, una volta che tutto sembra pronto, i lavori si bloccano e a pagarne le conseguenze l'intera costa campana, disseminata di strutture non più a norma e opere incompiute, che contribuiscono a svalutare quella che dovrebbe essere la prima risorsa del nostro territorio, il mare appunto. Quest'estate la Regione Campania ha investito 400 milioni sulla depurazione, con l'indizione di ben 5 bandi di gara per l'affidamento dei lavori e della gestione degli impianti di depurazione, ma, denunciano le associazioni ambientaliste, questi appalti rischiano di naufragare in un mare di ricorsi, come già accaduto per la bonifica del fiume Sarno, con conseguenze disastrose, finanziamenti europei non spesi nei tempi e quindi perduti. Ad accendere i riflettori sulla vicenda è l'ingegnere Gualtierio Parisio, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico di Marevivo, che lancia l'allarme. Sono numerose le segnalazioni e le richieste di modifica dei bandi, premonitrici ricontenziosi, trasmesse agli uffici pubblici, anche da parte delle associazioni costruttori edili di Napoli, che, a nome delle imprese, hanno scritto per dire che alcuni requisiti illogici e stringenti sbarrano l'accesso alle gare. E la conseguenza di questi ricorsi è il blocco totale dei lavori, che ormai non sono più procrastinabili. Basta fare una passeggiata sul nostro lungomare per rendersene conto.